Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la pagina della politica e partiamo da ieri sera dalla visita di Matteo Salvini a Silvi per festeggiare il primo sindaco leghista eletto in Abruzzo. La cittadina adriatica è stata trasformata per l'occasione in una piccola pontida con un bagno di folla per il ministro dell'Interno. Arrivato pochi minuti prima dal suo viaggio in Russia, il vicepremiere è stato accolto dal sindaco Andrea Scordella e dal coordinatore regionale della Lega Giuseppe Bellachioma. La Lega rivendica la candidatura del prossimo presidente della regione Sposa, la strategia dei due forni con 5 stelle e raggruppamento di centrodestra. Sentiamo il servizio. Folla delle grandi occasioni a Silvi per accogliere il leader della Lega, nonché vicepremiere e ministro dell'Interno Matteo Salvini, tornato in Abruzzo per festeggiare il primo sindaco leghista della regione a tutto campo. I suoi interventi prima nella sala consigliare con le autorità, gli amministratori, con il neosindaco Andrea Scordella e il coordinatore Bellachioma e poi in piazza per il comizio che ha concluso la sua visita. Immigrazione, rapporto con l'Europa, sicurezza dei cittadini, decreto dignità, legge Fornero, sanità ed elezioni regionali in Abruzzo, tra gli argomenti più importanti affrontati dal capo politico della Lega. Signor Ministro, secondo alcuni osservatori sta utilizzando il pugno di ferro con gli immigrati? No, il pugno di ferro. I confini ci sono, vanno protetti. In Italia arrivano donne e bambini che scappano davvero dalla guerra, che sono il 10% di chi passa il suo tempo in albergo in giro per l'Italia. Per gli altri l'unica via è quella di rimanere là da dove scappano. Decreto dignità, 8 mila posti di lavoro in meno in un anno, il PD addirittura dice 80 mila. Ma facciamo 800 mila. Sì, noi siamo andati al governo per cancellare posti di lavoro e rendere l'Italia un paese più precario e più insicuro. No, questi sono numeri di qualche scienziato a tavolino che la fabbrica, il negozio la conosce poco. A tenere banco però sono state le imminenti elezioni regionali. La Lega vuole il candidato presidente e il doppio forno resta aperto, o con il centrodestra mai citato, o con i 5 Stelle, elogiati da Matteo Salvini dal palco, il quale è stato anche costretto a cambiare la camicia in corso d'opera perché zuppa di sudore a causa del caldo a foso. Un boato è salito dagli oltre 3 mila presenti, un apoteosi, quando dal palco è stato lanciato lo slogan della campagna elettorale libereremo l'Abruzzo dall'Alfonso e le elezioni saranno un referendum sul suo operato. La Lega è pronta anche a conquistare la regione Abruzzo? No, a conquistare si conquistano i terreni quando si gioca a risico. Qua offriamo un'idea di Silvi, di Abruzzo e d'Italia ai cittadini che apprezzano, fondata sul diritto al lavoro, sul diritto alla pensione, sul diritto alla salute, sul diritto alla sicurezza. E quindi sono contento personalmente di poter passare dalle parole ai fatti. La commissione sulla incompatibilità di D'Alfonso però al Senato ancora non si riunisce. Contiamo di chiudere tutte le commissioni vacanti nel giro dei prossimi giorni e contiamo che gli abruzzesi possano avere un governatore a tempo pieno il prima possibile. Il leader della Lega ha glissato però sulla domanda del nostro direttore Manuela Petescia relativa all'atteggiamento dei pentastellati nei confronti della stampa. Cosa pensa del trattamento che talvolta alcuni esponenti di governo del Movimento 5 Stelle riservano a noi giornalisti? Faccio il giornalista, in aspettativa non retribuita, così almeno quelli del PD non fanno altre otto interrogazioni parlamentari. Ognuno ha la sua sensibilità. Io adoro la critica, querelo poco. Quando la critica non è critica ma è insulto e menzogna, querelo. Da giornalista ne ho ascoltate tante. Da ministro ne sto subendo peggio di Bertoldo in questi 46 giorni. Diciamo che è un governo, probabilmente il governo più attaccato della storia della Repubblica italiana quindi ogni tanto qualche reazione di nervosismo posso anche comprenderla. Ovviamente soddisfatti dell'iniziativa il sindaco di Silvi, Andrea Scordella e il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma. Una bellissima serata, dobbiamo ringraziare veramente il senatore Matteo Salvini, il nostro segretario e il nostro ministro perché è un uomo di parola, è venuto, ci ha onorato e siamo felicissimi di questa bellissima giornata qui a Silvi. Aveva detto che se avessimo vinto a Silvi con il candidato della Lega lui sarebbe venuto. Non è stato semplice, non è stato facile però insomma siamo veramente contenti. Il nostro partito in Abruzzo non è più una comparsa, bensé un protagonista. In altri temini chiedete il candidato presidente come Lega? L'ho chiesto il 5 di marzo. Avete il nome? Non glielo posso dire. Presente alla Kermes anche Gianluca Zelli, già amico di Stefano Parisi, ora impegnato ad organizzare liste civiche contro l'attuale governatore. Andiamo avanti, continuo a far discutere il project financing per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Ci sono dei profili di illegittimità, tuona il consigliere regionale, presidente della commissione di vigilanza della regione Abruzzo, Mauro Febbo, che sull'argomento ha inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, di cui i dettagli sono stati illustrati nella intervista che andiamo ad ascoltare, realizzata da Andrea Costantini. A noi non piace la denuncita, prima di arrivarci poniamo in essere una serie di azioni per non arrivare, perché sembra una cosa brutta che non piace. Però è chiaro che su un argomento così delicato e avere una delibera che vede un funzionario estensore e non vede la firma di altri due dirigenti, ma soprattutto nella delibera si dichiara il falso, perché c'è scritto che il dottor Angelo Muraglia, direttore regionale della Sanità, ha dato il parere favorevole sottoscrivendo la delibera. Questo non c'è scritto, non c'è la firma in quella delibera, quindi credo che ci sia qualche problema. Ma non è una svista, perché non è accaduto solo in questa delibera, che è la 495 del 9 settembre, e è accaduto anche sempre, l'oggetto della delibera è sempre il project finanziario ospedale di Chieti, nella delibera 540 del 29 settembre. Anche in quel caso c'è un solo funzionario estensore della delibera, che peraltro poi è la moglie del segretario particolare del presidente D'Alfonso Enzio Del Vecchio, la dottoressa Capodicasa, che firma e attesta che c'è la firma del dottor Muraglia, direttore regionale, invece la firma non c'è, come non c'è la firma degli altri due dirigenti. Quindi è chiaro che mi sembra che, oltre il parere contrario della Als, che già c'è stato a suo tempo, anche la dirigenza e il direttore regionale siano contrari perché non appongono la firma. Ci si può obiettare che c'è la firma del direttore generale che apportasse le firme degli altri. Non è così perché il dottor Rivera, direttore generale, è stato condannato dal Tribunale dell'Aquila a marzo di quest'anno proprio perché non ha i requisiti. Ci sono tutta una serie di atti che vengono posti nell'ultimo periodo che pongono un problema di legittimità, atti che potrebbero far scatenare una serie di ricorsi, una serie di condensiosi, perché sono atti che riguardano i fondi comunitari, sono atti che riguardano il trasporto minimo, su cui peraltro c'è anche un condensioso con gli altri concessionari privati, potrebbero far nascere dei condensiosi enormi per la regione Abruzzo, per il prossimo governo regionale, i cui danni veramente sono difficili da calcolare. Adesso la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha smantellato una rete di importazione, distribuzione e vendita di giocattoli contraffatti oppure pericolosi per la salute dei bambini. Sequestrati 1.250.000 articoli che avrebbero fruttato sul mercato oltre 5 milioni di euro. Sentiamo. C'erano tutti i giocattoli più in voga al momento, persino le quasi introvabili LOL tra il 1.250.000 articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara nella operazione definita Fanni Gammi. Giocattoli delle migliore marche contraffatti oppure nocivi per la salute che potevano essere trovati regolarmente all'interno di negozi gestiti sia da cinesi che da italiani. La rete di distribuzione a livello nazionale è stata scoperta grazie ad un primo sequestro compiuto a Pescara lo scorso maggio. Una normale operazione all'interno di un esercizio commerciale gestito da cinesi in cui sono stati trovati 450 articoli senza bollino CE. Da qui, con una indagine a ritroso, si è risaliti ad altri commercianti e grossisti in altre località a Roma, Napoli, Poggio Marino, Modugno ed Alba Adriatica. Il contrasto va fatto a tutti i livelli. Dobbiamo recuperare l'intera filiera, disarticolare l'intera filiera perché se non si disarticola la filiera, peraltro molto redditizia, anche se illecita, il problema continua a ripetersi a livello di venditori. La Guardia di Finanza ha segnalato alla Camera di Commercio per le sanzioni amministrative nove persone, tra italiani e cinesi, che dovranno pagare complessivamente 225.000 euro di multe. Denunciati all'autorità giudiziaria, invece, cinque extracomunitari, quattro cinesi e un bengalese, per i reati di contraffazione di marchi e frode in commercio. La Guardia di Finanza di Pescara, così, ha stroncato una vera e propria organizzazione del commercio illegale, anche se non si configura il reato di associazione per delinquere. Il giro d'affari era superiore ai 5 milioni di euro. E la valenza, ripeto, va oltre l'aspetto economico, perché qui parliamo di tutela dei consumatori, della salute dei consumatori, in particolare, in questo caso, trattandosi di giocattoli, parliamo esclusivamente di consumatori minori, anche di tenera età, ma il riverber ha anche una valenza sicuramente straordinaria, anche sotto l'aspetto della legalità, della tutela della legalità economica. Questo a favore del mercato legale dei prodotti, dei giocattoli, perché aver sottratto al mercato 1.200.000 pezzi di giocattoli significa aver tutelato quegli operatori legali che si impegnano ad operare nel rispetto delle regole dei consumatori e della legalità in genere. Andiamo avanti con la pagina di Cronaca. Cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state seguite dai carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Siamo in provincia di Avellino, nei confronti dei responsabili di attentati a fini estorsivi a impianti eolici della provincia di Avellino. Si tratta di persone residenti a Scampitella, sempre in provincia di Avellino, Orta Nova, in provincia di Foggia e Pescara. Sarebbero responsabili degli attentati messi a segno nel maggio del 2017 ai parchi eoli Cirpini di Bisaccia e Lacedonia. Due episodi filmati dalle telecamere poste dai carabinieri, nelle quali i cinque vengono ripresi, mentre danneggiano un trasformatore inserendo nel meccanismo una catena di ferro e mentre cospargono di liquido infiammabile una pala eolica prima di darle fuoco. Dopo gli attentati il gruppo ha avanzato richieste estorsive ai gestori degli impianti minacciando in caso contrario altri attentati. Le indagini coordinate dalla procura di Avellino, oltre alle telecamere, si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche, appostamenti e monitoraggio del territorio. Noi adesso proseguiamo con la pagina di cronaca e ci spostiamo nel Terramano. Dieci ordinanze cautelari di divieto di dimora in provincia di Teramo sono state eseguite dalla squadra mobile nei confronti dei titolari di agenzie di intermediazione e 12 richieste di misure interdittive per vigili e ufficiali di Stato civile sulle quali adesso dovrà esprimersi il GIP dopo l'interrogatorio. E' questo il bilancio dell'operazione Sidadania, che in portoghese vuol dire cittadinanza, relativa ad un giro di residenze fittizie finalizzate a far ottenere la cittadinanza italiana a brasiliani. I 22 indagati sono accusati di concorso in ambuso d'ufficio. Sentiamo le interviste relative alla conferenza stampa che c'è stata questa mattina. La vicenda riguarda centinaia di cittadini di origine brasiliana che hanno con la connivenza di agenzie e di autorità locali acquisito rapidamente e falsamente la cittadinanza italiana simulando la loro stabile residenza nella provincia di Teramo, nel senso che ciò fosse vero. Le indagini in modo incommiabile sono state sviluppate dalla squadra mobile della questura di Teramo e hanno consentito di accertare da parte della procura di Teramo un sistema ben oliato che riguardava centinaia di pratiche e in cui diversi comuni della provincia di Teramo con la connivenza di agenzie e autorità locali falsificavano tutta una serie di accertamenti per far risultare queste persone di origine brasiliana cittadini di fatto italiani, quando ciò non era vero. Un'indagine molto lunga, molto complessa perché la materia è molto molto articolata e ha richiesto l'impegno di tantissimo personale e l'acquisizione e la lettura soprattutto di un voluminoso carteggio entro cui andare a leggere queste violazioni di reati contro la pubblica amministrazione. Sicuramente andrà avanti, ritengo che Teramo in questa situazione abbia squarciato un velo di omertà su questo fenomeno ma soprattutto diciamo che l'ufficio ha fatto un grande salto di qualità perché ripeto sono reati di difficile accertamento. Attualmente in questa prima tranche sono state eseguite 10 ordinanze applicative di misure cautelari del divieto di dimora in tutti i comuni della provincia di Teramo L'indagine sta proseguendo e attualmente ci sono altre persone coinvolte e sono al baglio del GIP e la loro posizione si tratta chiaramente di tutti quei pubblici ufficiali dei comuni coinvolti quindi ufficiali dello Stato civile e vigili urbani che ovviamente concordavano e facevano parte di questo accordo che consentiva l'accelerazione della pratica con i titolari delle agenzie colpiti oggi invece già da questi divieti di dimora. Cambiamo pagina adesso e anche argomento la provincia di Pescara ha emesso una ordinanza frutto di anni di indagini condotte dalla Polizia Provinciale in collaborazione con Arta Regione e Ministero dell'Ambiente che inchiodano Edison S.p.a. circa l'inquinamento delle ex discariche 2A e 2B e zone limitrofe a bussi sul Tirino. il sindaco Salvatore Lagatta però lancia l'allarme perché la bonifica dei siti non è ancora iniziata. Sentiamo. Un'area di circa 70.000 metri quadrati a bussi sul Tirino inquinata perché lì nel corso degli anni sono stati depositati rifiuti diversi da quelli autorizzati e perché è risultata priva di opere di copertura e di messa in sicurezza e quella composta dalle ex discariche 2A e 2B più le zone limitrofe. Le responsabilità di tutto ciò su Edison S.p.a. Ora lo afferma anche un'apposita ordinanza emessa dalla provincia di Pescara frutto di anni di indagini e studi condotti dalla Polizia Provinciale in collaborazione con Arta Regione Abruzzo e Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo anche in qualche modo fatto sì che l'ordinanza emessa appunto il 26 giugno del mese scorso fosse chiara e inequivocabile ed è stata anche notificata a tutti gli enti tra cui anche il Ministero, la Solvei e chiaramente l'Edison il Comune che attualmente è proprietario del sito ma essenzialmente lo abbiamo fatto perché entro i 30 giorni successivi sono tenuti ad impiare una serie di procedure importanti perché quell'area deve essere necessariamente bonificata e noi dobbiamo consentire ai cittadini alle tante persone che vivono in quella realtà di cominciare a pensare che gli enti si siano non solo impegnati a emettere le ordinanze ma a eseguirle nei termini di legge. C'è qualcosa che non va però ed è il processo di bonifica che non si è ancora attivato un fatto che suscita la stizza del sindaco di Bussi Salvatore Lagatta Noi siamo molto preoccupati ho fatto un incontro al Ministero la settimana scorsa ho scritto una lettera al Ministro subito dopo l'incontro e ho purtroppo scoperto che nella sostanza è tutto fermo cioè il Ministero ha proceduto a finire la gara ha individuato l'azienda ma da quella data ad oggi nulla si è mosso vi dico non c'è il progetto definitivo non c'è il progetto esecutivo non c'è un quadro economico non è stato individuato il direttore dei lavori non è stato seglato il contratto non c'è stato il trasferimento delle somme dal capitolo speciale ai capitoli ordinari è tutto fermo e questa non può essere una casualità qualcosa c'è ho già attivato una messa in mura del RUP e la prossima settimana se non avrò segnali precise anche da parte del Ministero mi attiverò nei confronti del Ministero Ennesimo incontro in Regione sulla questione della restituzione delle tasse nel dopoterremoto convocato il tavolo dal Vicepresidente della Regione Giovanni Lolli si lavora ad un percorso condiviso per il Temporary Framework con il de minimis 500 mila euro e per una ulteriore proroga almeno sino a fine anno sentiamo il servizio di Daniela Rosone La partita sulle tasse si gioca su più fronti alla luce dell'incontro in Regione promosso dal Vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli il Sindaco Biondi parla di un percorso da portare avanti individuato anche dopo l'incontro con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti Si è individuato un percorso anche all'esito dell'incontro che c'è stato con il sottosegretario Giorgetti e in particolar modo il riferimento all'applicazione del Temporary Framework quindi con il de minimis a 500 mila euro l'accordo è di un differimento ulteriore dei termini per le attività di recupero delle agevolazioni da parte del commissario e la direttrice dell'Agenzia delle Entrate dottoressa Calabro e dall'altro un'interpretazione autentica del DPCM con cui si avviano le attività di recupero tenendo presente che la decorrenza dei termini delle agevolazioni è quella della pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di stabilità del 2012 e quindi al 14 novembre 2011 e non al 1 gennaio 2012 cosa che consentirebbe appunto di applicare il de minimis a 500 mila euro perché fino al 31 dicembre 2011 era vigente il Temporary Framework Quindi si spingerà con il governo su questo punto? Sì, questo è un primo tassello naturalmente che non è l'ultimo perché poi bisogna aprire l'interlocuzione sul fatto che il mezzo milione di euro rappresenti una franchigia e quindi non sia un limite oltre il quale si paga tutto e poi cercheremo anche di capire se effettivamente c'è la volontà di un'interlocuzione più approfondita con l'Europa per rimettere in discussione il fatto che si tratti di aiuti di Stato però questo è un percorso molto più lungo e molto di là da venire e su cui va verificata anche la volontà del governo naturalmente Vi preoccupa il fatto che insomma la proroga sia di 60 giorni c'è di mezzo l'estate i lavori fermi del Parlamento ad agosto? Si è ragionato sul fatto che ci siano fra le altre cose anche una proroga un differimento dei termini al 31-12-2018 delle attività del Commissario proprio per dare tempo al Parlamento di strutturare la norma più precisa possibile che non entri in contraddizione con la normativa europea e non ci faccia ricominciare il percorso da capo la mia posizione è nota sull'argomento io sono contrario al fatto che si siano giudicati aiuti di Stato le agevolazioni connesse al sismo anche perché si è trattato di un abbattimento dei contributi che non sono uguali in tutta Europa le tasse in tutta Europa non si pagano allo stesso modo in tutte le regioni quindi come ho già detto più volte dovremmo ritenere che alcune nazioni europee che sono molto aggressive sotto il punto di vista della tassazione per attrarre investimenti capitali e aziende sul proprio territorio quotidianamente violano la norma comunitaria sugli aiuti di Stato Adesso torniamo a Pescara per parlare di lavoro in un incontro organizzato dalla CGL si è parlato di inclusione e di disuguaglianze Contrattare per includere è il titolo del dibattito sul lavoro intavolato a Pescara dalla CGL qualità dello sviluppo e del lavoro dignità e disuguaglianze sono tre i problemi principali individuati nel mondo del lavoro in questo momento Maurizio Landini componente della segreteria nazionale della CGL vede favorevolmente molte delle iniziative sul lavoro messe in campo dal governo Conte e dal ministro 5 Stelle Di Maio che hanno iniziato a smantellare il Jobs Act che dice ha creato maggiore precariato secco o no però al ritorno dei voucher visti di buon occhio dalla Lega se si vuole davvero combattere la precarietà bisogna cambiare le leggi sbagliate che in questi anni sono state fatte e quindi bisogna cancellare anche molte altre forme di lavoro precario bisogna ripristinare l'articolo 18 bisogna estendere gli ammortizzatori sociali e quindi per quello che ci riguarda se quello è l'inizio bene se qualcuno pensa che è già la fine non ci siamo perché ci sono delle cose da cambiare in più diciamo con molta forza che se qualcuno gli viene in mente di reintrodurre i voucher nel settore del commercio e dell'agricoltura spero che sia un colpo di sole visto che è a luglio se non è così si deve sapere che noi ci batteremo per contrastare quella che sarebbe un errore molto grave a danno di chi lavora nella platea dell'auditorium Petruzzi c'era anche il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli che proprio nelle ultime settimane ha presentato iniziative finanziate da fondi europei per incentivare il lavoro in regione il segretario regionale della CGL Sandro Del Fattore nella sua relazione introduttiva ha fatto un plauso all'iniziativa della regione Abruzzo ricordando però i ritardi nell'applicazione del patto per lo sviluppo e sottolineando la mancata spesa dei fondi europei Se dovesse indicare una misura la più urgente secondo lei quale dovrebbe essere messa in atto di quel patto per lo sviluppo? Di misure urgenti ce ne sono diverse in primo luogo dovrebbero per esempio essere attuate tutte quelle misure che danno e che possono dare una ricollocazione a tutti quei lavoratori e lavoratrici che subiscono le crisi industriali nel patto per lo sviluppo c'era per esempio questa possibilità e c'era la possibilità di innovare i processi produttivi perché l'innovazione dei processi produttivi è una garanzia di sviluppo e di futura occupazione di qualità per tanti giovani per questo abbiamo stamattina messo in evidenza le inadempienze gravi e al tempo stesso rivendichiamo una svolta perché quello a cui teniamo è il lavoro e lo sviluppo di questa regione Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio torna sulla vicenda del cambio di nome dell'Università di Chieti il nome di D'Annunzio dice non sarà eliminato dall'Ateneo che si divide fra Chieti e Pescara ma si aggiungerà il riferimento al mare Adriatico sentiamo l'intervista di Gino Di Tizio Mentre qualcuno si sta attardando in una battaglia di recotraguardia inutile una disinformazione sulla vicenda del nome non si cambia il nome d'Annunzio non si toglie il nome d'Annunzio ma si aggiunge al nome d'Annunzio quello dell'Adriatico l'aggettivazione dell'Adriatico perché è giusto che sia così perché la vocazione l'ambizione oltre alla operazione di marketing per avere più attrattività e conoscenza perché basta andare su Google e digitare D'Annunzio ed escono un numero di link se si digita dell'Adriatico escono 10 volte di più i link usciti per D'Annunzio quindi un'operazione di marketing ma io non mi fermo all'operazione di marketing io guardo alla sostanza la Università dell'Adriatico D'Annunzio di Chieti Pescara così si chiamerà non mi dà fastidio anzi mi fa pensare che noi saremo forti al punto da attrarre tante altre persone semplicemente perché li raggiungiamo subito con la conoscenza del nome dell'Università poi c'è il piano formativo che spetta all'Università rendere il più possibile di alta qualità in modo che ci sia la scelta della nostra Università poi spetta a noi istituzioni di collaborare con l'Università perché gli studenti che arrivano in questa città si trovino bene e noi lo stiamo facendo lo stiamo facendo con la Casa dello Studente che è il progetto che abbiamo per il Centro Storico lo stiamo facendo con la collaborazione perché possano gli studenti muoversi liberamente anche nelle ore notturne con i mezzi pubblici lo stiamo facendo con ad esempio la collaborazione per il nuovo evento che si terrà a Chieti a Settembre che è la Notte dei Ricercatori che era un evento che si faceva a Pescara adesso si farà a Chieti ancora eventi doppiaggio letteratura e poesia musica artivisive teatro il mix del Convimium Artist organizzato dall'Accademia Teatrale Arotron l'ingresso è gratuito la manifestazione si svolgerà a Pianella è previsto particolarità il baratto sentiamo quest'anno abbiamo proposto ai cittadini pianellesi che ci ospitano di aprire loro le porte ogni prima domenica del mese facendo vedere loro frammenti di prove che facciamo pezzi di spettacolo ogni tanto è venuto a trovarci ogni domenica abbiamo avuto sempre ospiti diversi qualche cantante qualche attore poi abbiamo intrattenuto le persone parlando del nostro mestiere raccontando la gente ha fatto delle domande incuriositi da che cosa c'è dietro le quinte eccetera e quindi c'è stato un bellissimo scambio tutti coloro che sono intervenuti però avevano un obbligo era quello di portare da mangiare e da bere la cosa ha funzionato perché questo questo baratto crea una grande uno scambio fra gli artisti e gli spettatori è un modo di socializzare di confrontarsi e di anche sentirsi partecipi di quell'evento questa formula ha funzionato abbiamo deciso di fare una sorta di festa di cinque serate con il tema del baratto adesso la pagina esclusione di Bari e Cesena mentre nei prossimi giorni si capirà se il ricorso presentato entro i termini dall'Avellino andrà a buon fine oppure se gli irpini saluteranno la cadetteria ascoltiamo il tecnico del Pescara Baby Pilon che ieri appena giunto a Palena ha tracciato un bilancio del mercato e dei primi giorni di lavoro con la squadra sentiamo a che punto è la costruzione della squadra siamo a un buonissimo punto io avevo delineato di fare con il 4-3-3 iniziale nel senso che dipende di giocatori adatti a questo sistema di gioco e stiamo prendendo giocatori adatti sicuramente a questo anche con della qualità importante perciò devo dire che dietro abbiamo costruito positivamente la squadra in mezzo al capo secondo me molto importante il centro capo che abbiamo davanti lo stiamo definendo lo stiamo aspettando l'arrivo di se arriva Antonucci o meno però dopo il mosaico è completo nel senso che sono contento dei ragazzi che ho a disposizione e starà a me e a loro dimostrare che siamo una squadra competitiva che possa giocarsela con tutti Monachello è un giocatore che ha fatto bene ad Ascoli ma probabilmente deve ancora esplodere può essere pescare la piazza giusta e poi ha parlato anche di Cocco lei crede nelle qualità di Andrea Cocco Monachello è un ragazzo giovane che deve esplodere nel senso che l'anno scorso secondo me ha fatto molto bene ad Ascoli è un omad di quelli che noi ci andavamo molto a portare qui perciò abbiamo raggiunto l'obiettivo e sono contento che lui sia arrivato dovrà dimostrare soprattutto lui che è un ragazzo giovane di avere la possibilità di andare in Serie A perché è un giocatore come lui deve giocarsi le sue chance ma deve giocarsi prima le sue chance qui a Pescara dimostrare di essere all'altezza dimostrare di aver voglia di emergere con grande umiltà e determinazione perché è un ragazzo che secondo me può venire fuori può fare grandissime cose Cocco devo dire che è un giocatore che io lo conosco molto bene dai tempi di Vicenza che ha fatto cose strepitose se lui sta bene fisicamente se è un giocatore che torna a quel livello lì l'anno scorso ha avuto dei problemi fisici perché l'operazione ginocchio lo vedo bene da questo punto di vista ha cominciato molto bene sta a lui dimostrare di tornare ai suoi livelli se la sente di fare una promessa lei ha detto noi cercheremo di giocare bene la promessa che posso fare è quella che ho detto prima io voglio una squadra che quando scende in campo abbia sangue agli occhi che sia fulente sul piano agonistico e soprattutto di cercare di giocare bene al calcio essere più positivi cercare il risultato attraverso il gioco questo è quello che abbiamo fatto anche nelle difficoltà l'anno scorso di classifica siamo riusciti a farlo più che mai dobbiamo farlo quest'anno andiamo avanti domani scatta ufficialmente scendiamo di categoria la stagione del Teramo che si radunerà per la prima volta per iniziare il ritiro precampionato ci sarà anche il centrocampista Roberto Ranieri che arriva in prestito dall'Atalanta sempre a centrocampo molto probabile la permanenza di Mirko Spighi sentiamo il punto di Jacopo Forcella domani comincia il ritiro del Teramo ma in queste ore il diavolo ufficializza l'acquisto di Roberto Ranieri metronomo proveniente in prestito dall'Atalanta che nella passata stagione ha giocato con la maglia dell'Alessandria l'arrivo di Ranieri va a rinforzare la linea centrale perché il ragazzo di 21 anni di Treviglio elemento di prospettiva è con un buon bagaglio già nella categoria il centrocampo infatti è il reparto che sta subendo maggiori trasformazioni nelle ore antecedenti il raduno questo perché Mirko Spighi rientrato da Catanzaro sembra rientrare anche nei desiderata di Zichella e a questo punto dovrebbe rimanere quasi certamente in bianco rosso visto che il suo contratto scadrà solamente il 30 giugno 2019 sarà lui quindi con ogni probabilità a ricoprire insieme a Lorenzo De Grazie il ruolo di mezzala nello scacchiere tattico dell'allenatore senza dimenticarsi di Angelo Persia che dovrebbe arrivare dalla Vezzano che andrà certamente via è Giacomo Tulli l'esterno ex Sud Tirol nonostante le aspettative della passata stagione in campionato è rimasto a secco di gol e in generale non sembra aver soddisfatto la dirigenza che però per sostituirlo non andrà su vittorio esposito il giocatore è stato proposto ma per il momento non interessa anche perché davanti il reparto sembra pieno anche se Tulli dovesse realmente fare le valigie altro partente pressoché certo è il difensore Altobelli che dopo Siracusa sembra pronto a tornare al sud direzione Sicula Leonzio la squadra che finora ha mostrato l'interesse maggiore per il centrale difensivo che all'occorrenza il Teramo ha utilizzato anche a destra nelle due stagioni passate con Tulli e Altobelli che dovrebbero presto lasciare il diavolo qualche difficoltà in più invece ci sarà per Riccardo Barbuti che vorrebbe giocarsi le sue possibilità con Zichella anche lui ha il contratto in scadenza 2019 ma il problema è che il Teramo i sostituti li ha già comprati a differenza di quanto ha fatto per la linea mediana questo crea un problema di esuberi in quella zona di campo che dovrà presto essere analizzata nel frattempo domani si parte per il ritiro in casa tre finora gli appuntamenti amichevoli programmati si comincia a martedì 24 luglio a Cascia contro il benevento di Cristian Bucchi due giorni dopo il 26 appuntamento a Palena per la sfida classica con il Pescara infine il 2 agosto pochi giorni prima dell'avvio ufficiale della stagione con la Coppa Italia che scatta il 5 la sfida sarà al Bonolis contro la San Giustese ed è tutto per questa edizione del TG6 io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube grazie ancora e buona giornata grazie a tutti